Vedo con dispiacere Vedo con dispiacere che tutta la nostra sigla abbiamo proposto circa dieci argomenti e da anni non si muove nulla Il punto interrogativo sulla data di conclusione e di realizzazione delle opere è ancora lì L'unica data certa è che sono cominciate poi vedremo quando saranno finite spero di campare abbastanza a lungo vedere qualche cosa se non altro Allora buonasera Marina Lecci Consulente ambientale noi l'abbiamo invitata qui nella nostra rubrica Memento per parlare di due grosse questioni che interessano il Veneto e cioè la realizzazione della Pedemontana della Pedemontana Veneta la superstrada a pedaggio appunto del Veneto e per tornare a parlare anche delle sostanze per fluoro alchiliche, i pifas che inquinano ormai da tempo le falde dell'Alto Vicentino e non solo quelle perché ormai abbiamo avuto modo di scoprire che sono presenti anche negli alimenti e in altre problematiche Allora la questione Pedemontana ne parliamo per una questione tra virgolette ambientale diciamo così Cos'è successo? Allora l'ultima novità è che in sopralluogo mi sono accorta che c'erano tre sarcofagi chiamiamoli così di Amianto In che zona siamo? Siamo ad Altivole, San Vito di Altivole in provincia di Treviso dove peraltro questo cantiere è fermo è stato lo stop viene ancora da inizio dell'anno si sta procrastinando per lungo tempo perché la Pedemontana ha tranciato l'azienda agricola Piccolotto, Osvaldo e Giovanni papà e figlio che è un'azienda biologica produce kiwi praticamente la Pedemontana ha letteralmente attraversato l'azienda e lo fece in maniera un po' sgarbata per non dire altri aggettivi nel senso senza avviso senza niente è andata avanti da lì esposti in procura da lì il 700 quindi la richiesta d'urgenza al Tribunale Civile di Treviso il fermo della Pedemontana per approfondire appunto e chiarire questi fatti diciamo sgradevoli per gli agricoltori che invece vogliono fare il biologico certo bene, lei cosa ha scoperto? in maniera casuale perché dovevo attraversare questo cantiere che comunque era fermo autorizzata dall'avvocato Giorgio Destro che saluto che collabora con l'avvocato Serena Pomaro che seguono il caso del Tribunale di Padova e con un gruppo di lavoro di esperti, di tecnici ecco io sono come dire il granello di sabbia lì e dovevo andare a verificare l'altro pezzo di azienda quindi vedere cosa era successo tranciando certo e mi sono accorta di cumuli abbastanza ingombranti e grandi e effettivamente era cemento amianto verosimilmente perché poi c'erano le etichette pericolo quindi era stato impacchettato esatto era stato messo comunque in sicurezza e impacchettato e va detto che sono rimasta turbata da cosa io purtroppo dal mio pregresso ad aver visto ed essere entrata anche in situazioni compreso la Valdastico perché sono entrata anche come consulente in quella attività è dove erano stati sotterrati rifiuti pericolosi quindi dall'esperienza sai comincia ad aprire le antenne e dici ma cosa ci fanno qui soprattutto accertandomi che non c'erano dei codici questi codici dovrebbero accompagnare tutti questi sarcofagi verso poi le discariche specializzate quindi hanno un nome hanno un cognome ok messi comunque in sicurezza certamente ma l'aspetto più grave che poi ha accertato addirittura domenica scorsa che sembra perché poi ci sono anche le telecamere dobbiamo anche controllare approfondire approfondire quindi sembra diciamo perché se no dicono che la dottoressa Lecci ha detto che quindi io vado molto cauta sembra però dal sopra luogo già si evince che qualcosa è stato fatto e quindi qualcosa si è movimentato comunque in questo cantiere che doveva restare fermo in questo tratto della pedemontana di San Vito di Altivole e dove si vedono anche pezzi di questi tubi che facevano parte del consorzio di bonifica tubi degli anni 50 anni 60 quindi in cemento amianto ma cosa avevo visto prima ancora avvicinandomi a questi sarcofagi che erano stati tranciati in maniera un po' barbara quindi vuol dire che non erano stati usati tutti i crismi per andare a recuperare materiale in cemento amianto quindi bisogna avere delle tute bisogna avere delle mascherine perché c'è tutta una procedura da seguire esatto molto rigorosa ok ma nel vedere il prima e il dopo si capisce che è stato fatto in maniera un po' grossolana ecco i rischi quali sono? allora sappiamo che l'amianto è una sostanza tossica molto pericolosa pertanto non può più essere prodotta e deve essere smaltito ed è un problema grosso perché ci siamo accorti poi non solo in piede montana ma che ci sono capannoni ci sono edifici che hanno ancora il tetto in cemento amianto ogni tanto viene fuori un articolo di giornale dove la scuola ha il tetto in cemento amianto c'è pericolo di salute per i bambini ma pazienza se fosse in cemento amianto e basta il problema è quando comincia a disfarsi o quando lo si trancia in maniera barbara e si va poi a mescolare con terreno che è stato scavato che poi viene riportato viene tolto dalla zona pedemontana e chissà con il rischio di distribuire quindi e dove viene distribuito quindi io ho visto peraltro in questo tratto della pedemontana dove io stesso ho subito anche un'aggressione verbale ero anche accompagnata da un altro consulente e sono stata intimidita pesantemente quindi io ho visto che in questo tratto almeno della pedemontana ci sono i barbari lo posso dire ecco ma secondo lei è proprio così ecco ci sono altre altre zone secondo lei che sono a rischio allora segnalazioni ne sono arrivate però in verifica non siamo ancora entrate allora noi sappiamo che la pedemontana in molti tratti è andata avanti per spezzoni no quindi è come se fosse un puzzle che a un certo punto verrà completata e ha incontrato diversi problemi addirittura punti dove è franata punti dove ci sono stati problemi lo stesso di espropri morte di qualche operario insomma è nata sfortunata molto sfortunata lei il suo lavoro prosegue chiaramente quindi di monitoraggio di controllo soprattutto per la sicurezza della salute pubblica perché basta una fibra di amianto respirare una fibra di amianto e poi sappiamo quindi la sollecitazione è a chi di dovere di intervenire di controllare intervenire perché per come è stato gestito questo tratto abbiamo grossi dubbi certo certo beh possiamo dire che l'amianto non inquina mettiamo un po' di ordine nel senso che se viene respirato un particello di amianto possono depositarsi sui bronchi e quindi creare infiammazioni e arrivare fino al punto umore l'effetto naturalmente uno non lo può avere subito normalmente si passa almeno dieci anni prima di avere l'effetto dell'amianto però la cosa è irreversibile allora se l'amianto viene smaltito in maniera normale non succede niente quindi sta a chi ha in questo momento in mano la lavorazione di questo giacimento diamante che probabilmente è uno stoccaggio di qualcos'altro che hanno disfatto da qualche altra parte è un residuo poi sono cemento e amianto non si è rilevato ci sono grandi discussioni ma di patologie da amianto nell'apparato digerente derivato da questo scientificamente non è ancora inalarlo respirarlo non è ancora stato dimostrato nulla quindi ci sono tubi continuiamo a usare questi tubi non sono stati sostituiti quindi evidentemente il problema è l'inalazione è il fatto che si fermano i bronchi nei bronchioli e poi negli alveoli polmonari questo è il grosso rischio quindi il rischio in questo momento ce l'ha chi lo sta lavorando e ce l'ha chi è vicino eventualmente che può inalare delle polveri ecco questo lavoro deve essere raccomandiamo a queste aziende e soprattutto la regione di controllare molto bene perché questo è assolutamente importante per la salute dei cittadini che viene prima della strada della pedemontana viene prima la salute dei cittadini e adesso passiamo al secondo argomento certo allora abbiamo delle novità anche per quanto riguarda le eccrizioni di PIFAS sostanze per fluoro alchiliche anche qui queste invece sono sostanze molto più surdole sono sostanze che naturalmente sono sostanze chimiche e quindi entrano in diciamo in competizione con la chimica organica degli animali delle piante degli esseri viventi e quindi possono portare delle patologie e trasmettere delle patologie perché non è soltanto come l'amianto chi lo respira soffre e avrà le conseguenze dell'inalazione dell'amianto se io mangio un pollo che ha bevuto quell'acqua oppure mangio un pesce che è vissuto dentro un lago dove questa quantità di inquinanti è notevole io mi assumo quotidianamente o mensilmente una quantità di queste sostanze e alla fine divento io un grosso portatore perché queste sostanze difficilmente vengono smaltite a lei ad un punto spiegarci cosa sta succedendo sono due novità allora diciamo quella più importante va riconosciuto il lavoro del NOE di Treviso il nucleo operativo ecologico che è stato incaricato dalla procura di Vicenza per fare queste indagini approfondite che di recente è proprio di questi giorni un'altra multa alla Miteni di 400 mila euro per aver omesso e quindi non aver trasmesso le analisi interne e queste analisi risalgono più o meno all'anno diciamo al 2017 adesso la data esatta non me la ricordo perché insomma sono un sacco di date che mi girano però è importante dire che la Miteni lavorava ai GenX che sono una generazione nuova di Pifas questa grande famiglia di sostanze per folore chili che le lavorava e che cosa è successo? che sono finite in falda anche queste sostanze e che la Miteni in autocontrollo analizzandole portandole al laboratorio Kelab aveva scoperto che c'erano queste sostanze nella falda e non ha trasmesso questa verità a nessuno cosa è successo? grazie al lavoro certosino del Noe di Treviso è venuto a galla questo problema e quindi hanno applicato una multa giornaliera di 2000 euro al giorno per omissione di trasmissione dei dati delle notizie di questa verità verità che rischia e minaccia l'ambiente quindi il danno ambientale che si amplifica già ce n'è uno con i C8 i catena corta eccetera eccetera e si aggiungono i Gen X nuova produzione della Miteni ecco e quindi è arrivata insomma questa nuova multa esatto questa nuova multa ma ce n'era stata un'altra 3 milioni e passa quindi voglio dire sempre data alla Miteni e sempre grazie al lavoro certosino del Noe allora questo è un nuovo filone quindi cercheremo di vedere poi in futuro cosa c'è ma è una notizia che è rimasta nascosta perché voglio dire non è finita dove doveva finire insomma sulla stampa locale non è stata guanurata quindi voi come televisione siete i primi il problema non esiste perché purtroppo è sempre così invece è giusto parlarne perché non bisogna avere paura della verità sì importante parlare ma soprattutto a cosa serve la notizia è giusta è ottima abbiamo un ulteriore inquinamento non è stato denunciato puniamo chi nessuno perché la società è fallita la Miteni sì però le società diciamo collegate alla Miteni hanno un loro bagaglio economico quindi sono aggredibili adesso sono partite anche delle associazioni ma anche la regione stessa a chiedere il risarcimento da anni dobbiamo pensare solo al costo dei carboni attivi che i gestori delle acque hanno utilizzato dal 2013 ad oggi per rendere l'acqua potabile degli acquedotti pensate che ho parlato proprio con l'ingegnere di acquedotti all'inquinamento per certi aspetti è un business esatto ma pensate che adesso la regione ha dato anche delle indicazioni molto restrittive che per queste sostanze dobbiamo andare verso lo zero cioè ha dato un'indicazione ok quindi non più i famosi 500 nanogrammi litro ma sempre sempre più vicino a quello che avevamo chiesto noi ancora e che avevano chiesto anche all'Europa le mamme non pizze diciamo interi spettatori perché si punta a zero perché sono sostanze che si accumulano quindi non è che bevendone pochissimo allora sto all'interno della norma e poi in qualche maniera lo espello invece non lo espellerò mai e che di conseguenza più mi alimento di alimenti inquinati e più naturalmente e rimangono anche nell'ambiente quindi noi li abbiamo che si accumulano nell'ambiente nel matrici ambientali e negli organismi viventi l'altra notizia che volevo dare perché di oggi pomeriggio che si è ricostituita la squadra di studi e di ricerca cappeggiata dall'avvocato Bortolotto di medicina democratica e dall'avvocato Giorgio Destro della terra dei FAS quindi sono contenta perché sto riunendo la squadra ho avuto questo compito proprio in occasione anche di queste novità insomma bene allora a luce di questo inviteremo con la squadra e parleremo con te di approfondire nuovamente la questione noi teniamo sempre aggiornati i nostri telespettatori grazie alla dottoressa Marina Lecis per essere stata con noi in studio adesso un breve break pubblicitario e poi seconda parte ultima parte della nostra trasmissione TV7 Match questa sera dedichiamo a quello che è stato il tema possiamo dire così di queste ultime settimane e cioè gli abusi clericali gli abusi pedofili sui minori uno scandalo che ha travolto possiamo dire tranquillamente il Vaticano e cercheremo anche di analizzare un po' quali sono state le reazioni e che cosa ha sollevato tutto quanto questo perfetto ok a tra poco allora restate in grazie a tutti grazie a tutti